È ora di imparare la cosa più importante dell'essere un vero eroe, la posa. Ginocchio alzato a 90 gradi, spalle indietro, pugno sul fianco se vi sentite sfacciati e sempre, sempre guardate verso il vento per avere un bel movimento del mantello. La pose? Eso es superficial. La parte más importante del giro es la pureza del corazón. Oh, grazie, io mi sono allenato molto. Bene, interrogazione, nome della posa dell'eroe? Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, Flash, Robin. Molto bravo, Mass. Menos, devi scendere dalle nuvole. Ehi, potrei scioccarvi, ma ho un'idea. Spero che vederci in azione vi abbia ispirato a mettercela tutta, ragazzi. Sicuro? Abbiamo imparato la lezione, grazie. Sempre felice di mostrare che il vero eroismo esiste. Oh, scusa. Stavo parlando all'altro, Robin. Quello che ha fatto il lavoro? Grazie, sono felice che si sappia chi è il vero eroe. Ma non tu, Robin. Il miglior Robin. Quello con le gambe lisce e senza peli. Grazie! Ragazzi, io sono l'originale, il migliore. Testiamo la tua teoria. Ma dai, il migliore sono io. È fuori questione, io sono il migliore. Chiaramente sono io, sono il più duro. Dai, ragazzi, riconoscete il migliore. Sono io il migliore. Sono l'originale. Ovviamente, il miglior Robin è il più forte, il più veloce, il più intelligente. Quindi, per esempio, il Robin che prende la pizza più velocemente? Prendere la pizza? Ma che prova è? Ci penso io. Aspettami. Un attimo. Siete stati molto leali. Ti alleni in questo modo. Sì. E la parte più difficile viene ora. Penso che questa sia la tipica facciata uomo più veloce. Questo non ti renderà più svelto. Ma sì? Guarda qui. Wow, 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 wow. Le mie mani sono rapidissime. Non dovresti correre o fare qualcosa del genere? Kid Flash ha la forza della super velocità. Certo, ma io sono dotato del potere supremo. Credo in me stesso. Quello non è un vero potere, Robin. Certo che lo è. Mia sottoposta sottosviluppata. Vedete, quando crediamo in ciò che vogliamo, trasmettiamo telepaticamente delle onde nello spazio, dove i sogni si avvereranno per ritornare a noi. È scienza pura. Bibi, quanti burrito riesci a mangiare al giorno? Il mio pancino si arrabbia al ventesimo. Credi in te stesso e potrai mangiarne il triplo. Corvina, se solo avessi fiducia in te stessa, potresti volare. Io so volare. Ora avete capito. Cyborg, credi che un cappello di feltro non ti stia bene, vero? No, la forma della mia testa è sbagliata. Credici. Oh, ti sta molto bene, Cyborg. Lo penso anch'io, Bibi. Stella, abbi fiducia in te stessa e potrai realizzare i tuoi sogni. Robin, sei sicuro che credere in se stessi sia davvero un superpotere? Sì, se ci credi. Goal! È questo che intendevo. E adesso calciamo questa palla! Perchè? Ecco mi hai fatto farmi male! No, non mi sento più il braccio! È questo che mi fa sbagliare. E questo non mi sento più da. Non mi sento più. Lo penso che scendoro è un superpotente. È quello che Romano ha fatto. No, non mi sento più le cose. Però non mi sento più se fosse un simile, è quello che si rai. No, non mi sento più se fosse un istante. Grazie.